prima di spiegarvi appunto che cos'è un podcast come funzione eccetera noi cominciamo a strutturare il podcast e la sua pubblicazione in modo tale che a mano a mano che procediamo capiamo di che cosa si tratta allora prima di tutto dobbiamo cambiare tutte le specifiche che si chiamano metadati che regolano il vostro podcast e questo lo facciamo utilizzando il tasto modifica che posto qua sulla destra eccolo qua modifica il podcast il podcast è composto da alcuni fare dobbiamo agire contemporaneamente o dobbiamo ascoltare no voi dovete ascoltare e agire contemporaneamente quindi se riuscite agite contemporaneamente andando nel vostro podcast ed effettuando le operazioni che adesso io vi spiego queste operazioni queste operazioni mentre le facciamo io vi spiego come anche di delle particolarità del podcast in delle qualità cioè vi vi offro non solo delle spiegazioni tecniche ma anche di contenuto quindi dalla pagina di impostazione visibile del vostro podcast noi facciamo clic sul tasto modifica ok quindi siete qua all'interno che cos'è questa pagina prima di tutto questo è la struttura del podcast quindi che cosa potete capire da questa struttura potete capire che il podcast ha un titolo ha delle note dello show beh ci chiediamo allora che cos'è lo show beh lo show è il podcast stesso e le note dello show non sono altro che la presentazione del podcast poi c'è una pagina web che è associata al vostro podcast e questo poi lo vedremo c'è una lingua ci sono dei dettagli sull'autore ci sono delle categorie allora riconsideriamo abbiamo il titolo le note dello show cioè la presentazione una pagina pubblica di tipo web una lingua dettagli dell'autore le categorie tutto quello che vedete qui ha un nome si chiamano metadati sono dei dati che stanno dietro stanno in background però questi dati quindi il titolo note show lingua nome eccetera sono esattamente i dati che vengono ritenuti da tutte le piattaforme di distribuzione podcast dunque quando qualcuno cercherà vorrà ascoltare il vostro podcast in spotify che cosa troverà troverà il titolo che voi avete inserito qui le spiegazioni che voi avete inserito nelle note la lingua il nome diritti d'autore la categoria e così via compresa la copertina qua sulla destra ecco perché noi dobbiamo riempire questi campi con delle nozioni che abbiano un senso chiaramente l'applicazione rss compilerà quello che è adesso ve la butto lì ma poi ve lo faccio vedere e ne parliamo in modo più dettagliato giusto per capire di che cosa si tratta dicevo l'applicazione rss compila un un file chiamiamolo così un file di testo che si chiama feed rss adesso voi rimanete pure su questa pagina ma se io torno indietro alla pagina precedente vedete che oltre alla copertina il titolo eccetera abbiamo un pulsantino che riporta proprio questa dicitura feed rss bene la prima affermazione categorica importante il primo principio postulato regola fondamentale del podcasting è che il podcast non è una pagina web pubblica ripeto non è una pagina web pubblica ma è un feed rss questo feed rss è un file come dicevo prima un documento di testo che riporta tutta una serie di codici che sono scritti in un linguaggio che si chiama xml adesso a noi non interessano questi dettagli però quello che ci interessa sapere che questo è il podcast il feed rss allora forse cominciamo a capire a che cosa serve una piattaforma come quella che avete a disposizione serve esattamente per creare questo feed rss senza che voi impariate un linguaggio di programmazione un codice scritto in xml quindi invece di scrivere un codice voi riempirete dei campi questa applicazione crea il feed scusate valida il feed e a questo punto il vostro podcast può essere pubblicato condiviso in tutte le piattaforme di distribuzione perché spotify apple presenteranno il podcast sempre allo stesso modo con le stesse caratteristiche perché tutte leggeranno esattamente il feed rss la piattaforma che si chiama che si chiama rss punto com ma potrebbe chiamarsi spreaker potrebbe chiamarsi spotify potrebbe chiamarsi ce ne sono diversi di piattaforme di pubblicazione la piattaforma questa piattaforma in realtà crea questo file crea il feed rss adesso non è necessario che voi sappiate di più su questo feed rss sappiamo solo che questo feed rss è composto da una serie di dati che sono appunto questi questi dati si chiamano metadati allora ecco quello che dovete fare prima di tutto trovate un titolo bello interessante per il vostro podcast quale vostro podcast quello che volete produrre all'interno del nostro corso quindi chiamiamolo siccome adesso non lo sappiamo ancora perché la settimana prossima cioè le prossime incontro poi studieremo il format studieremo i contenuti vedremo che di che cosa vi potete occupare quindi potete dargli un titolo provvisorio il titolo si può sempre cambiare potete cambiare il titolo tutte le volte che volete automaticamente anche spotify anche apple podcast anche amazon podcast eccetera cambieranno il titolo perché ovviamente andando a leggere il vostro il vostro feed scoprirà che il titolo è mutato e quindi lo cambierà quindi potete pure scrivere una domanda sì la mia pagina compare dove c'è il titolo compare il mio nome cognome la mail perché l'ho scritto io allora voi sì io per tutti quanti voi avete qui nome cognome mail perché gli ho dovuti compilare io questi campi sì per come arriviamo là sì per ciascuno di voi ho dovuto compilare io questi campi quindi adesso voi che cosa fate voi togliete in questa pagina come ci arriviamo in questa pagina ci arrivate perché da qui da qui c'è il tasto modifica la modifica ok e quindi qui adesso inserito un titolo provvisorio direi quindi potete anche lasciare il vostro nome cognome togliete la mail tanto non è ancora pubblicato quindi nessuno lo vedrà questo podcast e anche nelle note dello show togliete nome cognome gmail eccetera e scrivete qualche cosa che ha a che fare sul fatto che questo è un vostro podcast quindi il vostro podcast adesso ha un titolo ci sono le note dello show che ripeto si chiamano notte dello show ma è la presentazione poi qui non potete fare modifiche la pagina web come riferimento fondamentalmente al vostro nome e cognome quindi lasciate così invece dovete cambiare la lingua chiaramente a meno che qualcuno di voi non crei un podcast in lingua inglese francese indie non lo so a meno che non ci sia questo caso la lingua di riferimento è l'italiano eccolo qua poi osservate con grande attenzione questo pulsantino è un check mark che dice questo podcast include contenuto esplicito che cos'è un contenuto esplicito un contenuto esplicito è un contenuto sessuale o di violenza sessuale diciamo di un certo livello chiaramente e anche di violenza di un certo livello quindi se voi parla in questo podcast parlate non so fate un podcast di crime story quindi storia di crimini assassini eccetera e le descrizioni sono particolarmente crude cioè voi parlate del 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 morto con le budella spappolate sangue e cose eccetera allora il contenuto è esplicito se descrivete delle scene di sesso in modo esplicito sono esplicite e allora dovete cliccare questo check altrimenti lo lasciate libero quindi è chiaro che una domanda su questo dimmi tutto quello che vuoi nel caso che io per esempio faccio un podcast e non clicco questa cosa e poi un podcast su di storia mi capita di parlare della prima guerra mondiale magari mi capita di parlare della vita delle trincee in un modo appunto un po crudo ma non è esplicito non è esplicito non è esplicito in quel caso lì è storia non è esplicito per essere esplicito deve richiamarsi proprio a una violenza gratuita eccessiva ok grazie sì morbosa ecco cioè il focus deve essere proprio questo quindi no non è esplicito in quel caso se però diciamo tu inserisci dei contenuti espliciti e non fai il check il podcast ti potrebbe essere cancellato l'amministratore di spotify ti potrebbe vietare la pubblicazione per esempio oppure ti potrebbe scrivere per chiederti delle delucidazioni ma sai normalmente non perdono molto tempo lo bannano e via ma normalmente non è il vostro caso di insegnanti chiaramente quindi nel 99 per cento dei casi non c'è da attivare questo questo check molto importanti invece sono i dettagli dell'autore perché qui dovete inserire proprio il vostro nome e cognome e basta togliete la mail perché sennò viene pubblicata anche la mail e poi qualcuno che va a caccia di mail per fare il buon tempone riempire la posta di spam la vede no quindi togliete le mail dovunque qui all'interno di questi metadati e i diritti d'autore di chi è l'autore cioè a che appartengono i diritti d'autore del vostro podcast beh se i contenuti sono vostri appartengono a voi chiaramente se invece diciamo il podcast è vostro i contenuti sono vostri però c'è anche la collaborazione di qualcun altro allora virgola ci sarà anche Mario Rossi e così vale anche per il nome no se ci sono diverse collaborazioni potete inserirle e non è detto che i collaboratori poi abbiano i diritti d'autore perché il diritto d'autore dipende da chi è il creatore del podcast cioè proprio dei contenuti inseriamo l'immagine di copertina adesso guardate che cosa c'è scritto che ci sono dei vincoli perché tutti i canali di distribuzione mostrano la copertina allo stesso modo quindi ci sono delle regole per stabilire questa copertina queste regole ci dicono che prima di tutto deve essere quadrata e non può essere meno di 1400 per 1400 pixel la copertina che io vi ho dato ha già queste caratteristiche eccola qua bene abbiamo adesso anche la nostra copertina nella descrizione notate che potete inserire anche un link per esempio se io inserisco il link Alberto Pian che porta il mio sito poi lo sapete queste procedure c'è l'icona del link web della url e quindi qui lo inserisco quindi potete inserire anche un link mettere dei grassetti eccetera e poi ci possono essere dei metadati aggiuntivi che determinati canali decidono di applicare un po' per volta se questi metadati aggiuntivi riscontrano il gradimento del pubblico un certo successo beh cosa succede succede che poi una piattaforma di podcast via l'altra a mano a mano implementano questi nuovi metadati vi ho parlato di questo vi ho accennato un attimo a questa cosa perché perché mi interessa che voi sappiate che l'architettura del podcasting è un'architettura aperta nessuno ha il monopolio del podcasting nessuno ha il monopolio di questa architettura anche se poi c'è qualcuno che cerca di fare la parte del leone per esempio come Spotify che sta applicando delle politiche di un certo tipo comunque nella sostanza noi siamo arrivati a inserire tutti i metadati che sono stati richiesti e quindi possiamo salvare il nostro podcast che apparirà in questo modo lato lato utente che lo deve creare il mio si chiama nome e cognome non ha un titolo ho messo questo questo è un podcast che viene creato nel corso eccetera eccetera dunque siete arrivati a questo punto oppure avete capito questa procedura per chi è arrivato sì sì benissimo io comunque alla fine sono riuscita ad iscrivermi ecco perfetto ho cambiato l'email non avevo dubbi perché ci sono arrivati tutti quindi perfetto adesso voi volete farmi questa domanda ma adesso noi abbiamo il podcast no voi avete la struttura del podcast ma questo podcast non ha ancora una trasmissione quindi cerchiamo di capire questa differenza che cos'è un podcast un podcast è un insieme omogeneo di trasmissioni voi non avete adesso una trasmissione neanche una quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo inserire vedete qua c'è scritto nuovo episodio a volte viene chiamato episodio a volte viene chiamata trasmissione e pensate che a volte viene chiamato addirittura podcast quindi certe volte il termine podcast è utilizzato per due cose diverse cioè è utilizzato per indicare la struttura che deve contenere le trasmissioni ed è utilizzato anche per indicare le stesse trasmissioni quindi quando ci si parla così in rete anche tra podcaster, ascoltatori eccetera non si capisce a volte a che cosa ci si riferisce ma ti riferisce al podcast di Alberto Pian o a quella trasmissione specifica questa è un equivoco che si trascina da vent'anni da 2004 da quando il podcast è stato creato quindi ogni volta quando voi sentirete il termine podcast vi domanderete se si tratta proprio della struttura oppure della trasmissione è come indicare il palazzo un palazzo di cinque piani e poi l'appartamento di Alberto Pian il palazzo nella dicitura corretta il palazzo è il podcast l'appartamento di Alberto Piano o di chi c'è qua Maria Cantali, Ferdinando Piro eccetera sono le trasmissioni oppure di episodi capito questo facciamo clic sul nuovo episodio e vediamo che cosa dobbiamo fare guardate è abbastanza simile come immagine come struttura allora ci sarà un titolo di un episodio perfetto allora scriverò episodio di ma al solito episodio di prova facciamo così primo episodio per conoscere il mio podcast note sull'episodio e qui c'è la trasmissione ovviamente se fosse una narrazione potrebbe essere non lo so il pirata il pirata Johnny rese il vascello e andò alla ricerca del tesoro primo episodio se voi avete un po' di esperienza di podcast sapete che possono essere suddivisi in stagioni ed episodi è una suddivisione molto interessante lo è anche da un punto di vista didattico perché voi potete aprire un podcast il podcast della maestra anzi qua vedo di dell'insegnante Paolo Ferrari quindi è il podcast del professor Ferrari o maestro Ferrari quello che è poi che cosa farà prima stagione sarà quest'anno quindi sarà la stagione 23-24 con i podcast l'anno prossimo sarà una nuova stagione quindi lui potrà utilizzare anziché aprire 50 podcast ogni volta che ha un nuovo anno di insegnamento ne apre uno e poi lo suddivide per stagioni in ogni caso questa è la prima stagione quindi scriviamo uno e il numero dell'episodio è uno poi abbiamo la tipologia dell'episodio che cosa vuol dire full trailer o bonus partiamo da bonus bonus è una cosa che non vi interessa cioè nel senso che bonus è quando il podcast è a pagamento e allora fornisci dei dei bonus però questo non è il nostro caso e poi soprattutto non è un caso italiano in Italia è molto complicato erogare dei podcast a pagamento potreste sì creare un episodio bonus in questo senso magari non fa parte della narrazione pensate alla storia del pirata Johnny pirata Johnny che prende il vascello eccetera poi pirata Johnny trova il tesoro poi pirata Johnny si innamora della piratessa e poi bla bla alla quinta sesta puntata potresti avere un bonus il bonus di chi beh siete amici di Ferrero il famoso esperto di pirateria eccetera che partecipa a una vostra trasmissione e dirà delle cose sulla pirateria quindi è qualcosa che non c'entra con la successione degli episodi da un punto di vista narrativo e però è una cosa che volete offrire ai vostri ascoltatori allora diventa bonus e vedete che se scegliete bonus va via il numero dell'episodio perché il bonus non è un episodio conteggiabile fra gli episodi così come non lo è il trailer perché voi potreste anche erogare un trailer per fare un po' di pubblicità al vostro podcast e sarà un trailer non lo so della prima stagione il trailer della seconda stagione della quinta stagione e così via dunque abbiamo capito che cos'è l'episodio full l'episodio full è proprio quello che segue poi la narrazione quindi il primo il secondo il terzo eccetera eccetera qui torna il contenuto esplicito e voi direte ma perché ce lo ripropone non l'avevamo già analizzato prima sì ma prima riguardava tutto il podcast cioè tutto il condominio tu stai entrando in quel portone il portinaio ti ferma e ti dice guarda che questo qua ragazzi qui c'è di tutto c'è al primo piano c'è un bordello secondo ci sono gli assassini che si sparano al terzo sniffano droga eccetera quindi questo è un palazzo esplicito va bene ma voi potreste avere un palazzo che non è esplicito ma un determinato episodio sì perché non lo so siete costretti o volete raccontare una cosa con appunto in modo un po' forte un po' allora questo episodio è esplicito benissimo lo assegnate il fatto che questo episodio sia esplicito non rimette in discussione il podcast nel suo insieme le parole chiave allora le parole chiave sono importanti sono importanti per questo motivo perché adesso io ne inserisco una dunque quindi pirateria dice pirateria va bene aggiungi perfetto poi aggiungo anche pezzi da quattro gergo piratesco poi bucanieri ok benissimo ho aggiunto queste tre parole chiave sulla base di quale criteri prima di tutto posso scegliere le parole chiave chiare uffa chiave e a che cosa mi servono i criteri sono riguardano il fatto che le parole chiave devono essere attinenti a ciò di cui io parlo e non devono essere contenute nel titolo e neanche nella descrizione perché perché il termine tesoro fa già parte della ricerca all'interno di per esempio non so Spotify se nella casella di ricerca di una di un canale di distribuzione di podcast voi digitate tesoro e nella descrizione dell'episodio appare questo termine la ricerca verterà anche su ciò che avete scritto nella presentazione o nel titolo dell'episodio quindi dovrebbero essere delle parole diverse da quelle che avete scritto qua ecco per esempio che ho scelto bucanieri pezzi da quattro pirateria che non è pirata ovviamente ne potete scegliere diverse e poi che cosa fate quando create un nuovo episodio e questo è molto interessante quando create un nuovo episodio tutte le parole chiave che fanno parte del vostro podcast cioè tutte le parole chiave che avete inserito nei vostri quattro cinque episodi vi compariranno tutte ogni volta tutte insieme lui pescherà tutte queste parole chiave dei vostri episodi e le ripropone quindi non dovete far altro che selezionarle e dunque completate completate una prima scelta poi procederete più speditamente con gli altri episodi infine caricare il file audio in quale formato lo potete creare praticamente in tutti i formati che volete ma alla fine caricatelo in mp3 perché vedete che supporta l'UAV mp3 acc ccaf eccetera 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 però se non è mp3 l'applicazione deve fare delle operazioni di conversione che richiedono tempo quindi tanto vale che le facciate voi all'atto della registrazione quindi carica il file audio quale file bene voglio qua ne carico uno qualsiasi eccolo qua e basta giusto per avere voi avete quello che vi ho consegnato oppure un altro un altro qualsiasi andate in fondo e salva bozza bozza se siete a questo punto io vi aspetto un minuto perché devo fare due o tre spiegazioni sulla sul caricamento del file e la sua pubblicazione quindi ah c'è qualcuno che ha una mano alzata Anna chi è Roberta oppure una vecchia mano che è rimasta lì scusami è una vecchia mano che è rimasta lì ti chiedo scusa no niente figurati quindi avete caricato un file audio avete composto i metadati perché adesso un po' per volta entriamo in una serie di questioni molto interessanti però diciamo richiedo un attimo di attenzione ci siete sì ok vabbè non dite niente penso no come era quella regola era sì ci siamo come era sì ci siamo silenzio assenso no va bene allora osservate podcast studio le tue bozze primo episodio per conoscere il mio podcast S1 stagione 1 E01 episodio 1 della stagione 1 non è ancora programmato scusate non è ancora pubblicato infatti qui appare il tasto programma se voglio posso decidere di pubblicare questo podcast che ne so il 4 aprile per dire quindi mi interessa pubblichare il 4 aprile va bene lo pubblicherò il 4 aprile oppure lo pubblico immediatamente pubblica naturalmente lo pubblichiamo adesso però ci interessa la programmazione perché come si lavora nel campo del podcasting siccome il podcasting richiede l'utilizzo di un microfono magari una scheda audio che si connette al dispositivo di registrazione poi bisogna aprire l'applicazione di registrazione insomma ci sono delle operazioni preliminari da fare e delle condizioni anche dovete non so allontanare i parenti da casa il cane che abbaia lo rifilate alla zia eccetera eccetera e siccome non è possibile creare sempre queste queste condizioni per una buona riuscita del vostro podcast allora voi magari una volta al mese avete un pomeriggio in cui queste condizioni sono riunite e allora cosa fate registrate 3, 4, 5 episodi e poi programmate la loro uscita che è esattamente quello che faccio io che fanno tutti quando pubblicano i podcast quindi o scrivono tutta la sceneggiatura o scrivono degli appunti oppure improvvisano sono magari in anche con degli ospiti eccetera però normalmente si registra sempre più di un podcast alla volta questo vale anche in classe perché anche lì in classe dividere i gruppettini tirare fuori gli strumenti richiede un po' di tempo tanto vale poi l'ambiente si scalda i ragazzini ci prendono gusto quindi tanto vale dedicare un tempo per la creazione di 3, 4 episodi praticamente capite no? quello che vi voglio dire io però non riesco a caricarlo perché in che senso non riesco a caricarlo da classroom sul mio computer non so perché qualcuno mi vuol dire cosa fa? se no trova un mp3 qualsiasi trova un file audio qualsiasi da caricare anche una canzone non importa va bene ma se fa da classroom visualizza il lavoro apri in un'altra finestra lì sempre apri in un'altra finestra da l'icona per scaricare e lo trova nel download perfetto brava quindi cosa facciamo adesso? noi pubblichiamo pubblichiamo adesso l'episodio è pubblicato vediamo che cosa succede quando un episodio di un podcast reale di tutta una serie di podcast è pubblicato quindi voglio aprire qui ma voglio entrare da un altro account quindi siamo sempre in RSS però sono entrato da un altro account dove tengo appunto i podcast ufficiali questo è uno di quelli questo è il podcasting è una prima stagione composta da quattro episodi ecco come appaiono gli episodi uno sotto l'altro una volta che sono pubblicati quindi avete S1 l'episodio 4 poi 3 poi 2 poi 1 notate la forma discendente quindi si parte dall'ultimo chiaramente che è pubblicato in ordine cronologico adesso teniamo aperte entrambe le finestre perché passeremo poi da una all'altra così vi faccio vedere alcune cose non lo so allora adesso che cosa facciamo il nostro podcast è pubblicato sì ma dove è pubblicato all'interno della piattaforma RSS punto com nel suo archivio di podcast e state tranquilli non ha nessuna visibilità ed è impossibile che abbia qualsiasi tipo di visibilità perché i podcast sono talmente tanti decine di migliaia e gli algoritmi di questa piattaforma non vanno mai a pescare ovviamente cose che non sono strutturate non hanno un seguito di migliaia di ascolti eccetera eccetera no quindi avete la pubblicazione ma in realtà è solo all'interno della piattaforma RSS vediamo che cosa succede quando facciamo clic su pagina web pubblica eccolo qua la piattaforma ha creato anche una pagina web all'interno della quale voi avrete via via a tutti gli episodi vedete in questa in questo podcast che è già strutturato ecco come si presentano i diversi episodi quindi in questo caso sono quattro che fanno parte della prima stagione è la stessa identica cosa solo che qui ce n'è uno solo che cos'è questa pagina web ma è niente perché è solo diciamo un riferimento che può essere utile all'utente per fare cosa beh per quanto riguarda il vostro podcast al punto in cui siete adesso non ci fa niente con questa pagina web perché come vi spiegherò poi in un secondo momento il podcast non è una pagina web lo si ascolta attraverso altre modalità quindi la pagina web è solo una sorta di biglietto di presentazione che deve rimandare l'utente da altre parti se prestate attenzione un attimo io attraverso questo confronto vi spiego di che cosa si tratta ricapitolando voi avete creato la struttura di un podcast e avete pubblicato il primo episodio però come abbiamo detto questo vostro podcast con il suo episodio sta all'interno di rss.com non lo troviamo in apple podcast in spotify eccetera non lo troviamo da nessuna parte guardiamo invece questo questo podcast questo podcast sta sempre dentro rss.com ma a differenza del vostro che avete appena pubblicato qui c'è un pulsante in più che si chiama ascolta su voi non avete questo pulsante voi avete solo copia feed rss e condividi qui invece abbiamo diversi pulsanti abbiamo copia sito web che porta il podcast al mio sito cioè al sito alberto piana mio sito di riferimento eccolo qua poi abbiamo anche ascolta su guardate che cosa succede quando faccio clic su ascolta su ecco che appare l'icona per poterlo ascoltare con il relativo link ovviamente per poterlo ascoltare su apple podcast spotify google podcast amazon music poi potrebbero essercene anche altri io ho scelto per il momento di pubblicarlo in questi quattro se faccio clic su apple podcast che cosa succede che si apre proprio apple podcast e quindi nell'applicazione di apple per la distribuzione di podcast abbiamo questo di alberto piana se invece faccio clic su spotify ecco che si apre l'applicazione di spotify e troviamo sempre il nostro podcast cioè tra il podcast che avete creato su voi e quello che vi ho appena mostrato io qual è la differenza la differenza è che il mio podcast è pubblicato anche sulle altre piattaforme il vostro no dunque che cosa abbiamo capito abbiamo capito che la piattaforma rss è un sistema di passaggio è un sistema transitorio nessuno viene ad ascoltare il podcast nella vostra pagina web perché attenzione a quello che vi dico il podcast non è il podcast non è un file audio in una pagina web non è questo qualcuno di voi tra i podcast di sua preferenza ha assegnato un podcast della RAI bene deve sapere che la RAI usa in modo fraudolento il termine podcast quelli che lei pubblica sulla sua pagina web non sono dei podcast perché non hanno un feed da RSS sono solo dei contenuti audio posti su una pagina web è una distinzione molto importante perché c'è tutta una filosofia qui tra utilizzo del web strumenti di podcasting eccetera che è proprio la causa della nascita del podcast nel 2004 però ci ritorneremo in un altro momento tutto questo discorso è chiaro l'avete compreso perché adesso vi voglio spiegare come si fa ovviamente a pubblicare il podcast nelle diverse piattaforme ci siete? mi avete seguito fin qui? ok allora adesso se qualcosa non è chiaro ovviamente mi interrompete adesso ritorniamo al podcast alla struttura del podcast questa va bene abbiamo il primo episodio pubblicato abbiamo la pagina web perfetto e dobbiamo distribuire il nostro lavoro dove lo distribuiamo? beh vogliamo distribuirlo in Spotify in Apple Podcast eccetera quindi che cosa facciamo? guardiamo il canale di distribuzione qui in alto avete una serie di opportunità abbiamo canali di distribuzione canali di distribuzione ci dice che possiamo applicare una distribuzione anche automatica del nostro podcast tramite Spotify Amazon eccetera eccetera poi possiamo pubblicarlo in Apple Podcast seguendo determinate procedure in Google Podcast seguendo una determinata procedura in iTunes Earth Radio Deezer eccetera posso anche pubblicarlo manualmente in una serie di canali che non sono previsti qui magari sono dei canali più piccoli che che noi conosciamo i quali teniamo e per pubblicarlo in ogni caso abbiamo sempre bisogno del feed RSS e poi possiamo pubblicarlo anche su YouTube perché? perché YouTube ha scoperto che il podcasting è una fonte di business interessante quindi Zacchete ci ha messo le mani e da poche settimane veramente poche pochi giorni se non settimane addirittura è compatibile con il feed RSS e quindi possiamo registrare il podcast su YouTube qualcuno dice va bene ma YouTube non è quel canale per la distribuzione di video e il podcast non è un contenuto audio certo però attraverso un trucco RSS riesce a trasformare il vostro contenuto audio in video e quindi a renderlo compatibile con la pubblicazione attraverso YouTube di tutte queste cose tecniche noi ci occuperemo quando voi avrete creato il vostro podcast e allora poi lo pubblicheremo davvero adesso non perdo tempo a spiegarvi come funziona perché avrete se no troppe cose tecniche nella giornata di oggi e poi non vi servirebbero perché quel podcast che abbiamo creato oggi con un episodio fittizio un titolo che non funziona eccetera non è certo una cosa da rendere pubblica però voglio che voi capiate che cosa abbiamo fatto noi abbiamo tramite RSS impostato la struttura del podcast con il suo episodio la distribuzione nei canali poi è un'attività che di cui ci dovremmo occupare in un secondo tempo faccio click sul pulsante della trascrizione e ho la possibilità di avere una trascrizione automatica del testo della trasmissione non fatelo voi perché questa è un'attività che RSS mette a disposizione gratuitamente ma che a RSS costa quindi la facciamo solo per diciamo delle trasmissioni che abbiano un senso non per queste prime prove ora qui a me potrebbe interessare di avere la trascrizione vi faccio vedere come funziona questa trascrizione scelgo la possibilità di inserire una trascrizione automatica perché altrimenti la potrei inserire anche manualmente cioè nel senso che ce l'ho già e quindi la copierò e la incollerò qui dentro ma io non ce l'ho quindi scelgo la trascrizione automatica pulsante continua mi chiede che cosa voglio va bene facciamo questa qua bassa perché ci mette meno tempo e quindi genera la trascrizione adesso sta generando la trascrizione quindi lo farà mentre stiamo parlando non c'è problema potrei chiudere perché tanto mi arriva poi una email da RSS questa email dirà complimenti la tua trascrizione è stata realizzata quindi adesso non ci resta che aspettare un minuto e intanto mentre aspettiamo vi dico anche che al posto della trascrizione voi potreste scrivere delle degli approfondimenti sulla lezione per esempio immaginate che create un podcast con i vostri ragazzini che parla della non so delle orbite del sistema solare quindi discutono i vari pianeti così una bella trasmissione simpatica di qualche minuto e poi invece di generare la trascrizione vi ricordate quando ho scelto la possibilità di realizzarla manualmente a quel punto mi si apre una finestra all'interno della quale io posso copiare e incollare un testo quindi insieme al podcast audio posso veicolare anche dei contenuti scritti e questa è un'opportunità che fa del podcasting un sistema multimediale e anche crossmediale ma come vedrete non basta perché perché oltre a veicolare dei testi posso anche suddividere la trasmissione in diversi capitoli e ogni capitolo può avere una immagine di riferimento pensate allora addirittura è come se io potessi in qualche modo inserire anche delle sorte di slide di schemi di immagini esplicative in un file audio e dunque avrò un file audio che può trascinare con sé anche dei contenuti visivi e dei contenuti testuali e poi posso inserire in ogni capitolo anche delle dei link dei link specifici ecco ecco qua la trascrizione è molto buona perché lui inserisce proprio la il time code questo è il time code della trasmissione e quindi anche mi sembra così una prima occhiata l'abbia realizzata molto bene anche se cose basse se volete il testo si dimmi ma allora potrei usarlo anche per sbobinare certo esatto l'unica cosa che poi magari se vuoi avere proprio il testo della trasmissione devi fare così togliere il come si chiama il time code e poi hai la trasmissione ci soffermiamo un attimo su questa trascrizione perché ha una valenza importante non solo da un punto di vista didattico ma proprio per i podcaster quindi anche per persone come me che realizzano dei podcast di professione e insegnano ad altri a realizzarlo oppure lo creano per terzi quindi per aziende per brand per organizzazioni istituzioni pubbliche eccetera che cosa succede diciamo che Barbara Finato che è qua che è qua con me è un è il CEO di una grande multinazionale va bene si è contenta perfetto il CEO di una grande nazionale poi c'è anche Aurora no Aurora è la sottoposta di Barbara Finato la segretaria di Barbara Finato però sempre un grande multinazionale un bello stipendio la villa le Bahama state bene ok perfetto e volete realizzare un podcast siccome la vostra agenda è molto piena non potete mettervi lì a pensare a organizzare a fare quindi lo faccio io per voi devo organizzarlo io per voi e quindi vi dirò guardate che tra due giorni parleremo del primo bilancio trimestrale però non bisogna usare troppi termini tecnici bisogna fare così cosa parlarne in questo modo ci vediamo dieci minuti per realizzare questa trasmissione dieci minuti li avete quindi che cosa facciamo improvvisiamo apriamo i microfoni improvvisiamo durante l'improvvisazione io vi correggerò vi darò qualche indicazione intanto registriamo la conversazione poi che cosa facciamo con la trascrizione sotto mano io cambio i termini tolgo le frasi aggiuste eccetera e ve la rispedisco e voi avete le vostre due parti ci rivediamo altri non dieci minuti ma questa volta tre minuti perché dovete solo leggere la vostra parte con un po' di intonazione e realizziamo la trasmissione quindi in pochissimo tempo in modo organizzato abbiamo un ottimo episodio del podcast certo voi siete due CEO miliardari eccetera eccetera quindi però pensate anche i vostri ragazzini che hanno l'opportunità di lavorare sui testi per riscriverli e riprodurre delle sceneggiature che possono essere interessanti proprio per una migliore competenza linguistica che poi non è solo una competenza linguistica ma è proprio una competenza to cure perché è la padronanza delle conoscenze che io ho acquisito e del modo attraverso le quali sono in grado di divulgarle quindi è un grande esercizio questo di grandissima utilità cioè non è fine a se stesso anche perché parliamoci chiaro chi ascolta un podcast non va a leggere la trascrizione è assurdo la trascrizione può servire anche per una inclusione di quelle persone che hanno delle difficoltà quindi anche attraverso no per questi motivi ma certo non per un ascoltatore normale quindi la sua funzione invece è veramente di essere un supporto in due casi un supporto per la creazione di buoni episodi e un supporto anche per l'apprendimento e il miglioramento delle proprie capacità avete capito questa cosa sì penso di sì se poi io tolgo cancello questa trascrizione vedete che cos'ho ho uno spazio vuoto allora se io ho fatto una trasmissione che parla non lo so parla di Dante Alighieri a Firenze poi posso prendere un testo di una cosa scritta da Alessandro Barbero per dire e metterla incollarla qui come citazione o fonte ulteriore no oppure oppure scrivo vedi le seguenti fonti eccetera eccetera ma quindi l'inserimento in questo caso quello che dicevi prima del veicolare contenuti scritti lo faccio in questo modo sì perché in realtà lo puoi fare anche lo puoi fare anche all'interno come manuale della descrizione no qui vedi la descrizione del podcast che può essere anche più lunga di una riga può essere anche 20 righe 30 righe 40 righe però diventa ridondante diventa eccessivo non è una bella cosa invece la puoi lasciare in background in quel modo lì grazie prego oh poi vediamo questa icona invece è un pulsantino che ci consente di inserire dei capitoli quindi guardate come funziona faccio click e ascolto signore e signori ladies and gentlemen ecco a voi podcasting per formatori insegnanti aziende e professionisti storytelling radiofonia format e clock spiegati da alberto pian www albertopian.it che cosa significa podcasting diciamo subito che le fonti storiche ci informano perfetto qui abbiamo la definizione di podcasting quindi siamo a 021 quindi io qua scriverò 21 perfetto a 21 abbiamo la definizione di podcasting che dura fino a diciamo ok perfetto ok fino a 55 quindi qui scriverò 0 e poi 55 quindi da 021 a 055 che cos'ho ho un capitolo quale capitolo quello della definizione di podcasting ho link posso inserire un link esterno adesso non ce l'ho sotto mano ma facciamo finta che ci sia un www definizione podcasting punto org che ne so una roba così lo aggiungo chiaramente è un link poi qui meraviglia delle meraviglie posso caricare l'immagine del capitolo fantastico vediamo che cosa ho così una robetta in jpeg qualsiasi big te perfetto si l'urla è invalida perché devo mettere http eccetera non ce voglio perdere tempo va bene quindi ho inserito questa della big salva e quindi le piattaforme che sono compatibili con la strutturazione in capitolo e podcasting io posso avere questa suddivisione e quindi vedere poi a mano a mano che scorro nell'ascolto del podcast posso passare da un capitolo all'altro e visualizzare le immagini adesso non lo faccio perché questo è un podcast vero realmente pubblicato quindi mi interessa solo che voi ok indietro togliamo tutto andiamo un po' non ho i capitoli perfetto ok tanto queste cose poi quando costruirete il vostro podcast le riapplicheremo però anziché spiegarle nel momento in cui voi le dovrete usare ho preferito affrontare tutta la questione della strutturazione della pubblicazione del podcast adesso anche se in realtà non l'avete perché poi mentre lavoreremo mentre costruiremo le trasmissioni eccetera ci ritornerà alla mente tutto questo e sappiamo su quale terreno noi possiamo operare poi c'è il soundbeat beh il soundbeat che cos'è che possiamo prendere stesso tempo l'episodio possiamo prendere con lo stesso sistema di prima un pezzo di questo episodio e questo pezzo dell'episodio diventa una specie di trailer dell'episodio stesso quindi viene pubblicato non so certo adesso qui la trasmissione dura 5 minuti quindi non ha senso ma se voi aveste una trasmissione di 30 minuti un'ora può essere interessante prenderne un pezzo una parte e la pubblicate come non tanto trailer perché il trailer è un insieme di vicende all'interno di un episodio quanto un taser direi che più un taser in ogni caso si chiama soundbeat si chiama soundbeat lo vedete qua quindi un soundbeat del podcast e dunque che poi pubblicate come trailer col sistema che vi ho fatto vedere prima quindi un'anticipazione in sostanza di quello che poi pubblicherete questo lo potete fare anche quando la trasmissione è in via di pubblicazione vi ricordate che l'avete programmata eccetera eccetera perfetto ho creato un soundbeat lo mandate sui social eccetera dite ah sentite cosa uscirà fra due settimane eccetera allora prima di tutto la mail del tuo feed la mail quindi la mia sarà arachnemec.com potete abilitare la mail all'interno del feed questa abilitazione della mail dura 12 ore cioè cosa vuol dire vuol dire che il feed rss quindi quel famoso file di testo avrà al suo interno la vostra mail che quindi sarà pubblica per 12 ore all'interno di vari canali perché pubblica solo per 12 ore beh perché ormai con gli spam che ci sono i robot che circolano eccetera pubblicare la mail non è una cosa tanto buona però se voi dovete pubblicare il podcast per esempio su google o su spotify o da altre parti queste piattaforme richiedono che il feed rss abbia una mail valida per forza perché loro sono come le concessionari di una casa produttrice di automobile no vuole controllare che se tu sei un concessionario fiat l'auto che arriva è una fiat cioè da dove arriva quest'auto tutto lì ecco perché 12 ore sono sufficienti perché uno non ci mette 12 ore a pubblicare il podcast su google ci mette 3 minuti no e quindi prima di farlo quindi prima di andare alla pubblicazione su google inserà la sua mail qui e poi schiaccia il pulsante abilita mail poi sito web personalizzato attiva lo devi attivare va bene e che cos'è il sito web personalizzato è il vostro sito cioè il mio è www.albertopian.it quindi è il vostro web anche questo viene incluso dove viene incluso viene incluso qua viene incluso qua eccolo qua quindi quando andiamo alla pagina web di questo podcast che è mio quindi il sito web viene aggiunto questo pulsante sito web che rimanda faccio clic rimanda ad Alberto Piano cioè a un sito esterno non si riferisce al sito del podcast chiaramente poi questo anche è molto importante l'ordinamento degli episodi gli episodi possono avere due tipi di ordinamento l'ordinamento classico che è episodic episodic cioè episodio dopo episodio l'ordinamento classico funziona così io pubblico il primo episodio e sta sotto poi il secondo episodio sta sopra cioè l'utente che cosa vede quando va su Apple Podcast su Spotify vede subito l'ultimo episodio pubblicato questo è quello normale ma se io creo una narrazione suddivisa in stagioni con una storia che ha un seguito da un episodio all'altro a me interessa invece che la pubblicazione sia seriale cioè che l'utente veda non l'ultimo episodio ma il primo in modo che possa poi ascolto dopo ascolto seguire la trasmissione dal primo episodio all'ultimo e l'ultimo sarà quello più recente che ho pubblicato quindi ricordatevi episodi quello tradizionale seriale invece quello tipico da serie tv quando andate su Netflix non vedete l'ultimo episodio dell'ultima stagione ma partite dal primo episodio della prima stagione chiaramente collaboratori questo è quello che ho fatto io prima potete aggiungere un collaboratore qui aggiungete tutti i ragazzini che volete chiaramente come amministratori però attenzione perché l'amministratore può cambiare tutte le impostazioni del podcast oppure lo fate come analyst e quindi cioè come colui il quale classico dell'agenzia di marketing eccetera ha accesso solo ai dati statistici allora se il podcast create un podcast vostro e collaborate con qualcuno che lo realizza insieme a voi sarà amministratore se realizzate un podcast per la scuola per voi per la vostra classe con i vostri ragazzini così mettete i ragazzini come analyst quindi che vedranno le statistiche del podcast si divertiranno a vedere se il loro amico di via Mazzini 4 lo ascolta o no chiaramente collaboratori poi che cosa abbiamo boh queste sono cose tecniche poi vedremo eccetera protezione della copia è sempre attiva di default la protezione della copia quindi redirect serve per se voi cambiate gestione adesso non ci interessa e cancella il mio podcast e vabbè quando vi siete stufati del podcast lo cancellate però qui voglio dirvi una cosa cioè potete creare tutti i podcast che volete un podcast può essere composto anche da cinque trasmissioni vi ricordate quello sui pirati avete cinque belle storie di pirateria da raccontare bene create un podcast sui pirati che si intitolerà cinque storie di pirateria le raccontate lo pubblicate e finisce lì l'america è un paese da svaliggiare è esattamente uno di questi podcast questo podcast ha pubblicato due episodi cioè un trailer e poi il primo episodio domenica prossimo uscirà al secondo e poi guardiamo due tre quattro cinque sei sette episodi al settimo episodio questo podcast finisce perché finisce la narrazione che cosa devo fare quando un podcast è concluso niente lo lasci lì perché sarà lì per sempre come un libro in una biblioteca è come una sala cinematografica che ogni tanto riproietta il vostro podcast è una storia che ha un inizio e una fine che potrete riproporre ripubblicare come si chiama non ripubblicare riutilizzare anche in classe eccetera quindi in realtà potete pubblicare tutti i podcast che voi volete mentre per esempio ecco Storie di Elisofi per esempio è un podcast che si è concluso in otto episodi anche questo ed è lì ed è lì e poi non lo so Historycast no Historycast è un podcast è un podcast che ha quattro episodi della nuova stagione ma il vecchio archivio comporta quarantadue episodi quarantatré episodi quindi questo è il primo podcast di storia che è stato creato nel 2005 e poi ha pubblicato e poi dopo ha smesso e poi gliele abbiamo ripresi tutti e gliele abbiamo ripubblicati tutti la qualità audio di questi primi podcast non è un granché però lei è una grande storica è una storica che insegna all'università di Pisa Enrica Salvatori e poi abbiamo ripreso le pubblicazioni del podcast recentemente tra l'altro l'ultimo è molto interessante perché riguarda l'omosessualità e le posizioni sociali dell'antica Grecia è veramente un gran podcast che fa luce anche su una serie di luoghi comuni quindi interessantissimo anche questo donne di potere in un mondo che cambia eccetera eccetera insomma questo podcast adesso esce una volta al mese e andrà avanti finché Enrica ne ha voglia il sito della RAI podcast RAI che è il più clamoroso esempio di un podcast che non è un podcast guardate qui c'è scritto podcast vedete io faccio click su podcast non ho nessun feed va bene è una raccolta ok andiamo non so ad arte arte sentieri dell'arte perfetto guardate che cosa ho io qua io posso ascoltare l'episodio va bene lo ascolto poche aree dove il colore perfetto le vighe di attesa che cosa ho fatto io prima di tutto ho ascoltato il podcast da una pagina web non ho nessuna possibilità di ottenere il feed di incollarlo in apple podcast e di ascoltare questa pagina quando voglio in modo automatico dal mio dispositivo sono costretto a un collegamento su una pagina web dovete sapere che il podcasting nasce come alternativa alla costruzione di pagine web non serve avere una pagina web per ascoltare un podcast poi torniamo indietro e vediamo che cosa succede siamo sempre in arte io ho ascoltato il podcast ma non viene registrato il fatto che l'abbia ascoltato quindi che cosa capita tipicamente capita che io ascolto magari cinque puntate oggi perché ho mezz'ora di tempo che ne so sono attaccato alla scrivania poi chiudo tutto non ho la possibilità di iscrivermi non tiene conto di ciò che io ho ascoltato tra una settimana io voglio riascoltare questo podcast lo devo andare a cercare perché non ho un abbonamento a questo podcast lo devo andare a cercare e non ricordo le puntate che ho ascoltato non solo guardate la pagina di questo podcast non ha un feed rss che io posso copiare per ascoltarlo dove voglio per esempio come posso fare con historycast historycast guardo non lo so la pagina web di historycast va bene che in realtà è solo una una forma per poter dire ascolta su d'accordo ma io qui ho copia il feed rss copia il feed rss allora cosa faccio io copio il feed rss poi guardate dove vado vado qui in google per dire cerco google podcast apro google podcast guardate che cosa google podcast sulla sinistra google podcast sulla sinistra aggiungi un podcast tramite feed rss cioè io aggiungo il feed rss di enrica salvatori e qui appare il pulsante di iscrizione mi iscrivo io sono iscritto tramite google dunque sul mio dispositivo con l'applicazione google podcast io posso ascoltare questo questo podcast quando voglio perché che cosa fa google podcast beh fa una cosa che adesso vi faccio vedere anche in apple podcast adesso apro apple podcast guardate siamo in apple podcast vedete qui menu file c'è scritto scegli un podcast menu file scegli un podcast inserisco il feed il famoso feed che ho copiato da rss e c'è il pulsante segui basta io da questo momento sono abbonato al podcast di enrica salvatori che cosa vuol dire questo ve lo spiego attraverso un esempio così a parole allora usiamo la nostra amica aurora che qui in questa biblioteca medievale fantastica che ascolta e anche il nostro amico ferdinando aurora si alza alle sette della mattina non è vero si alza prima ma paziente diciamo le sette ferdinando anche si alza alle sette ognuno a casa a loro ferdinando si fa la barba aurora anche no cioè aurora prepara la colazione prepara la colazione fermiando si fa la barba e cosa fa ferdinando ferdinando accende il suo ipad e apre apple podcast aurora accende il suo iphone o smarco quello che è android eccetera e apre google podcast non devono fare niente perché perché apple podcast e google podcast hanno preso nota di tutti i i podcast a cui siete abbonati e automaticamente nel momento in cui sono connessi alla rete cioè praticamente sempre automaticamente vanno alla ricerca di tutti i nuovi episodi pubblicati e succede che mi di che pubblicano i nuovi episodi mi segnalano qua che è un nuovo episodio questo è già ascoltato quindi non è segnalato come tale e se voglio addirittura posso anche impostare il fatto che mandino in onda automaticamente gli episodi quindi mentre preparo la calazione mi faccio la barba eccetera eccetera posso ascoltare i miei episodi senza passare da alcuna pagina internet non c'è internet qua perché sono due applicazioni che hanno niente a che fare con internet perché? perché si basano sul feed rss la rai invece non ha niente a che fare con i feed rss tu ci stai dicendo che il podcast è un qualcosa scritto in un linguaggio che quindi sostanzialmente è svincolato da siti noi lo fruiamo come un audio però il fatto di non essere un audio lo svincola da qualunque sito abbiamo solo bisogno di una piattaforma che lo veicoli insomma neanche hai solo bisogno di neanche una piattaforma perché la piattaforma è per comodità perché tutti navigano su internet tu hai bisogno di un aggregator l'aggregator che cos'è? è un'applicazione un'applicazione che fa il parsing del file in xml parsing vuol dire che lo interpreta riga per riga interpreta il codice questa applicazione può essere guarda apple podcast che è un'app che non ha niente a che fare con internet è un'app google podcast spotify stesso ce ne sono tantissime veramente tante quindi qualcosa che ci lega quel linguaggio lì che se no noi non riusciamo a leggere esatto senza passare dalla rete non è necessario passare la rete non serve a niente piuttosto ti serve un ti serve uno spazio ftp che non so se sai che cos'è comunque è uno spazio interno alla rete internet quindi non al web all'interno uno spazio fisico come fosse una pagina dove tu una cartella ecco una cartella dove tu collo qui il feed poi prendi l'indirizzo del feed lo comunichi a qualsiasi aggregator che fa il parsing del del file e basta il feed rss lo ha inventato questo tizio che si chiama adan carri che è un caro amico di arberto betella che io ho conosciuto indirettamente ma mai di persona ma lui si ci lavora costantemente negli stati uniti lui è il creatore del podcasting cioè proprio di questo feed rss sapete cosa significa podcasting podcasting significa la definizione della data doc seer la data doc seer significa personal option digital casting cioè una scelta personale una sorta di casting quindi scelta personale di contenuti audio perché in realtà tu all'interno di questo feed puoi mettere qualsiasi contenuto audio che abbia scritto che l'abbia registrato Ferdinando o Marco o che si intitola il podcast che è una breve storia della rete internet di